Migliaia di persone, molte delle quali anche percorrendo 450 chilometri a piedi, si sono messe in cammino per essere a Fatima con Papa Francesco. Il pontefice è atterrato poco dopo le 16 alla base aerea di Montereal, accolto tra gli altri dal Presidente della Repubblica Marcello Nuno Duarte Rebello de Sosa, con il quale si è intrattenuto privatamente in una sala della Torre di Controllo. Un successivo trasferimento in elicottero e in papamobile ha condotto Papa Bergoglio al santuario di Nostra Signora di Fatima, dove fedeli gioiosi lo attendevano pazienti sin dalle prime ore del mattino, nonostante le iniziali avverse condizioni atmosferiche. Alla cappellina delle apparizioni, costruita nel 1919 sul sito dove si trova il Leccio, dove apparve la Madonna cento anni fa, Papa Francesco ha levato un'orazione alla Vergine implorando la concordia fra tutti i popoli. In un silenzio surreale e commosso di tutta la piazza, si è raccolto in preghiera silenziosa per quasi dieci minuti. Sull'esempio dei beati Francesco e Giacinta, che insieme con la cugina Lucia furono testimoni di quegli eventi straordinari, il Pontefice ha auspicato la conversione del cuore degli uomini, la pace tra le genti in un mondo dove troppo spesso ancora oggi si verse il sangue di innocenti in guerre incomprensibili. Donando alla Madre Celeste una rosa d'oro ha pregato perché il popolo di Dio possa percorrere le strade del mondo annunciando il Vangelo, manifestando la pace e la giustizia di Dio abbattendo i muri e uscendo verso tutte le periferie. Nel più intimo del tuo essere, nel tuo cuore immacolato, proseguito Papa Francesco, guarda i dolori della famiglia umana che geme e piange in questa valle di lacrime.